È il momento di presentare la prossima artista. 18 dischi di Platino e uno di Diamante. Spazia dal rock al pop, al blues, alla world music. Insomma, lei è già in tour, però ci vuole molto bene e ha fatto una piccola deviazione per arrivare qua. E su questo palco stasera canterà il nuovo singolo per la prima volta in tv. Causa effetto, Giusei Ferreri! Ciao! Grazie. Buonasera a tutti. Ciao Porto Piccolo. Siamo parte di tutto, tutto è parte di noi, tutto parte da noi. Siamo sempre connessi, siamo tutti connessi ma non tra di noi. È l'amore veloce che si accende e si spegne alla luce di un neon. Sono gli anni più belli, orecchini ed anelli. Se restiamo in silenzio, fa lo stesso rumore di un colpo di scena. È una corsa successo, ma non vedi il traguardo è già dietro la schiena. Non ti piace normale? Se è normale tu dire restare da soli, è tra gli occhi più belli, i tuoi occhi sono i più belli. Non dirmi dove sei, che tanto prima o poi è il mondo che ti cambia, ma noi cambiamo il mondo. Perché io ti conosco, sei come un mio difetto, noi siamo causa-effetto, noi siamo causa-effetto. L'effetto che mi fai non mi spaventa mai, sarà futuro adesso, adesso siamo noi. Perché io ti conosco, sei come un mio difetto, noi siamo causa-effetto, noi siamo causa-effetto, noi siamo causa-effetto. Con le mie mani nude a toccare le onde di un giorno d'estate, continuo a sentirti come il canto di una balena nel mare. Ma la notte mi vuoi e mi vuole per come mi immagini tu, io mi sento diversa, non ho la risposta, ma causa-effetto sei tu. Non dirmi dove sei, che tanto prima o poi è il mondo che ti cambia, ma noi cambiamo il mondo. Perché io ti conosco, sei come un mio difetto, noi siamo causa-effetto, noi siamo causa-effetto. L'effetto che mi fai non mi spaventa mai, sarà futuro adesso, adesso siamo noi. Perché io ti conosco, sei come un mio difetto, noi siamo causa-effetto, noi siamo causa-effetto. Tra di noi lo spazio di un respiro che vivo, tra di noi si può cambiare il mondo, possiamo farlo adesso. Noi siamo causa-effetto, noi siamo causa-effetto, noi siamo causa-effetto. Grazie. Grazie. Sì, grazie che hai fatto una deviazione per stare con noi nel tuo tour. Con grande piacere, anzi grazie di questa bellissima opportunità, occasione, non vedevo l'ora di far sentire causa-effetto. È già un successo. Però si è piaciuta. È già un successo. Comunque Giusy, noi ti verremo a vedere in giro nei tuoi tour. Grazie. Hai qualche data da ricordare? Sì, le tappe fondamentali e importanti saranno anche ad ottobre, oltre a questo giro che sto facendo come tour estivo. Estivo. Per cui sarò a Roma il primo di ottobre all'Auditorium Parco della Musica e poi il 3 di ottobre a Milano al Teatro Dal Verme. E verrò a farti da corista. Stai ridendo, non so perché. No, dopo tanti tanti esercizi. Perché sei bellissima. Un applauso a Giusy Ferreri. Grazie, Giusy. Grazie per essere qui con noi. Grazie. Grazie, buona sera. Grazie, da buona.